Amici miei, stiamo aspettando riscontri dalla Prefettura e dal Comando dell'Esercito per l'intervento straordinario a Cerignola. Tutto l'intero è stato avviato, però i cerignolani hanno il sangue nelle vene e hanno determinazione e capacità sufficiente a provvedere anche con le proprie forze, per cui da stasera i cerignolani puliranno Cerignola. Abbiamo appena varato un piano di intervento straordinario che si fonda, e questo è il dato importante che tutti quanti vi dovete ricordare e stampare bene nella mente, che si fonda sull'utilizzo esclusivamente di personale SIA. A Cerignola non arriva nessuna azienda esterna a prendere eventualmente il lavoro che spetta ai dipendenti della SIA. Sono i dipendenti della SIA, l'amministratore della SIA Bascialeo, che ha dato il là a una sorta di mobilitazione cittadina, per cui stasera Cerignola sarà oggetto di un piano di intervento straordinario per la pulizia di tutta la città. Ovviamente occorrerà un po' di tempo, ma ripeto, da stasera, dalle ore 20 di stasera, per tutta la notte, per la giornata di domani e per tutto il tempo che sarà necessario i lavoratori della SIA saranno disponibili a ripulire la città con il supporto di mezzi messi a disposizione da aziende cittadine, non soltanto aziende di rifiuti, ma addirittura aziende edili che a fronte di una situazione straordinaria metteranno a disposizione mezzi straordinari. Io non sono un perditempo, un perdigiorno, non vado occupando sale consigliari da nessuna parte, sto a lavorare per ripulire Cerignola e per mantenere fermo il principio che la SIA non si tocca e che la precedenza aspetta oggi e sempre ai lavoratori della SIA. Vi aggiornerò nel corso della giornata.